Benvenuti a Cinema Italia, appuntamento dedicato alla storica sala cinematografica Cinema Italia di Sarzana. Il film di questa settimana è un film di produzione francese diretto da Michael Herz, che continua la sua filmografia dedicata ai temi esistenziali, passeggeri della notte. È ambientata nella Francia del 1984, esattamente a Parigi, è la storia di una donna bruscamente lasciata dal marito che per mantenere i suoi due figli adolescenti trova un impiego, la centralinista di una radio privata, ma è una centralinista notturna che filtra le telefonate alla conduttrice. In quell'occasione conoscerà una ragazza senza fissa dimora, una di quelle ragazze tipo i ragazzi dello zoo di Berlino, che sconvolgerà la sua vita. È un film costruito molto bene, soprattutto anche attraverso i temi musicali, interpretato da Charlotte Gaisburg, brava attrice, figlia d'arte, Sergio Gaisburg, compositore, ma soprattutto la mamma, Jane Birken, modella e attrice, icona della minigonna del periodo d'oro. E ho detto tutto, Cinema Italia, a ben arrivederci! Non è possibile.